Sono con Brini Iman, titolare dell'azienda Le Fate. Buongiorno Brini. Allora, innanzitutto voglio sapere da te di dove è l'azienda e di parlarmi un po' di questa bellissima azienda. Allora, noi siamo Le Fate, siamo un'azienda di Carpi, provincia di Modena. Il marchio esiste da 40 anni, l'azienda da 40 anni sotto Mecce Italia e abbiamo acquisito tantissime marchi che sono Anisee, Sally New York, Simona Vignoli e Le Fate, ingrandita un po', abbiamo fatto Sotto Le Fate, abbiamo fatto Le Fate Intrigante, dove si veste anche la donna aggressiva, si veste la donna un po' casual, si veste la donna sportiva e abbiamo fatto il beach e fatturiamo anche la bimba che vestiamo mamma e bimba uguale. Bello, fantastico! Ascolta, collezione qui a Mare da Mare, immagino collezione 2022, a cosa vi siete ispirati? Allora, abbiamo ispirato sempre stampe vive, colori vivace, colore che ti tira tantissimo a comprare il costume perché è bello, sono stampe corallo, sono fioriti, sono catene, sono sempre stampe studiate e anche perché seguono la collezione dell'abiti, perciò ti puoi abbinarlo con un abito, tu puoi abbinarlo con una giacca, con una camicia, con quello che vuoi. Poi ha Le Fate Grandi Testimonial, man mano li faremo vedere, man mano diremo i nomi, comunque Grandi Testimonial perché Le Fate è amata anche dalle dive, no? Veramente, veramente, siamo troppo richiesti dalle dive. Grazie mille. Grazie a lei, grazie mille. Grazie mille.